L'alba dell'autonomia. Dopo l'approvazione tra gli applausi del disegno di legge in Consiglio dei Ministri, l'iter per la riforma del secolo è avviato. Una vittoria per i Veneti che il 22 ottobre del 2017 parteciparono al referendum consultivo promuovendo con una maggioranza straripante l'autonomia. È un bel riconoscimento soprattutto nei confronti del 98,1% che nel 2017 in Veneto ha votato sì all'autonomia. In particolare fu proprio la provincia di Vicenza a segnare il record di affluenza ma soprattutto di gradimento col 98,3% di sì all'autonomia. Eppure oggi il Partito Democratico a Roma si schiera contro questa riforma e frena e Stefano Bonaccini, candidato segretario del PD, a dire che questo tipo di autonomia spacca il paese e quindi i democratici sono pronti a scatenare una mobilitazione. Questo è un posto di autonomia che semplicemente non funziona perché non risolve né i problemi del nord e quindi il fatto di poter gestire più materia, di avere le risorse per farlo, né quelli del sud. Sulla riforma dell'autonomia interviene il candidato del Partito Democratico alla poltrona di sindaco di Vicenza, Giacomo Possamai. È un'autonomia che non arriva fino in fondo, che non può funzionare. La proposta che abbiamo fatto noi è invece quella che ci consentirebbe di avere davvero l'autonomia. Individuiamo subito quali sono le materie che servono davvero. Noi ne avevamo proposte sette, in particolare ce ne sono tre importantissime, cioè il lavoro, la formazione e l'impresa. Concentriamoci su quelle, portiamole a casa e soprattutto portiamo a casa le risorse per gestirle. Insomma, per Giacomo Possamai bisogna concentrarsi solo su sette materie. Invece Francesco Rucco, sindaco di Vicenza e candidato civico appoggiato dai partiti di centrodestra, spera che molte materie statali possano essere decentrate alla Regione Veneto. Ci aspettiamo un disegno di legge equilibrato che possa dare le risposte richieste dai Veneti in molte materie di competenza oggi esclusivamente statale che possano essere, diciamo così, decentrate sul Veneto, sulla Regione Veneto. Giacomo Possamai però spiega che è il centrodestra che, secondo lui, si spaccherà nell'iter che è appena iniziato e non arriverà fino in fondo. Se la maggioranza avrà i numeri questa riforma andrà fino in fondo, ma siccome purtroppo non ce li avrà, è chiaro che il rischio che così ci si impantani di nuovo e che non si arrivi fino in fondo. Su questo punto però Erika Stefani è convinta esattamente del contrario. Gli alleati qui hanno rispettato i patti. È un fiume in piena che non può più essere veramente fermato. è un fiume in piena che non può più essere un fiume in fondo.